Riflettori ancora puntati sulla Miteni, la provincia di Vicenza ha depositato in queste ore in procura un esposto contro la multinazionale giapponese Mitsubishi Corporation. I fatti contestati riguardano sempre l'inquinamento del sito di Trissino. La decisione di presentare l'esposto è dovuta al fatto che la multinazionale giapponese, nonostante la diffida proseguire con le attività di bonifica, non ha mai risposto né alla diffida né alla richiesta di individuare un domicilio illegale in Italia per esigenze di celerità dell'azione amministrativa. Non si è mai presentata alle conferenze di servizi, ai tavoli tecnici e agli incontri indetti dagli enti pubblici vicentini. Un'azione è quella della provincia volta a tutelarsi quale ente preposto al controllo della bonifica, ma anche e soprattutto per il territorio.